Dopo le due vittorie consecutive della B2 femminile e in vista della prossima partita con Villaricca siamo alla Palamatese di Piedimonte per sondare le impressioni dell'allenatore e delle giocatrici di questa squadra che sta facendo sognare tutte le tifose e i tifosi di Piedimonte. Senti una cosa, domenica questa esplovaccia regnola contro una squadra che potenzialmente doveva essere più forte di voi, no? Ma guarda, sul più forte non lo so, certamente la nostra condizione attuale ci vede recuperare un periodo un po' poco fortunato anche dal punto di vista della salute degli infortuni, quindi pian pianino ci stiamo rimettendo in carreggiata, certamente gli incontri che verranno non saranno semplici però diciamo che ci stiamo preparando. A proposito, la prima squadra campana che incontrate domenica prossima? Sì, incontreremo Villaricca che ha otto punti in classifica, è una squadra che sta avendo un buon rendimento. Allora, questa squadra che aveva cominciato, diciamo non troppo bene il campionato, si sta riprendendo, dove può arrivare? Guarda, noi ragioniamo di domenica, di domenica in domenica. Abbiamo degli obiettivi con tutte le ragazze del gruppo, quindi abbiamo l'esigenza di poterci focalizzare molto su quelli che sono i dettagli di giornata in giornata, poi alla fine guarderemo la classifica. Allora, con il regista della squadra Martina Delvaglio, state alzando la crista, no? Beh, con calma, nel senso che abbiamo avuto un inizio un po' così, però adesso le cose stanno andando meglio, ci stiamo amalgamando, essendo comunque un gruppo nuovo e speriamo di continuare così. Tu da dove vieni? Da Caserta. Quindi sei vicina di casa, viaggi, no? Stai qua? Sì, vi alterno, un po' sono qui e un po' torno a casa, dipende dai giorni. La tua carriera? Eh, allora, io ho iniziato a Caserta, anni fa, adesso sono anni fa, e poi ho sempre giocato per lo più in Campania, in campionati tra B2 e B1, e ottenendo anche grandi soddisfazioni, la maggiore, diciamo, con Caserta la promozione in Serie A2, 2012 mi sembra. Questa squadra, secondo te, dove può arrivare, vista la tua esperienza? Ma secondo me c'è tantissimo potenziale, dobbiamo lavorarci e comunque amalgamarci anche come gruppo, perché non solo con la tecnica si vincono le partite, secondo me, ma gran parte del, diciamo, la fa anche il gruppo, l'unione di gruppo, quindi abbiamo, secondo me, tanti margini di miglioramento e potremmo fare bene. Non mi sbilancio, perché sono un po' scaramantica, però ci si può divertire. Allora, domenica avete la prima squadra campana qua a Piedimonte? Sì, è la prima squadra campana e vedremo, poi io non conosco qualche giocatrice, alcune sono state anche mie ex compagnie di squadra, vedremo.